negli ultimi anni al capannino è sempre una gran partita tra follonica e monza lo scorso anno finì addirittura 4 a 4 match incredibile questa volta invece la spuntata il follonica 6 a 4 sulla tua formazione tommaso con la maria ma te che partita hai visto questa è una partita che è stata in bilico veramente fino a un certo punto e dove comunque il follonica saggiamente il secondo tempo aveva capito che poteva appendere da una parte dall'altra la sorte di questa partita si è giocata su alcuni episodi cruciali dove l'esperienza conta tanto e dove diciamo che oggi l'aspetto fatalità l'aspetto un po fortuna non è stato dalla nostra parte ma il follonica queste situazioni le ha cercate da squadra esperta come le ha sfruttate al massimo una domanda che mi viene sempre per questo monza una squadra costruita con tantissimi giovani cioè l'età media credo sia una delle più basse del campionato si credo bassissima è un po la nostra filosofia è un po un credo che facciamo perché di necessità virtù perché dobbiamo tranquillamente fare con quello che abbiamo e questo non è facile perché tutte le volte oltre ad amalgamare una squadra e quindi trovare un gioco che tenga sempre conto delle caratteristiche dei giocatori tutte le volte ogni partita ogni campionato è molto un divago perché il giovane è sottoposto a queste alternanze di prestazioni di umori di tenuta psicologica che va costruita piano piano per cui andiamo avanti così alcune partite riusciamo a tenere botta alcune partite nei momenti più importanti siamo in difficoltà ma questo è un percorso di crescita più per i ragazzi che per la squadra insomma